Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Un'attrice celebre nel mondo del cinema sta attraversando un periodo drammatico a causa di un gravissimo lutto. Dopo aver raggiunto l'apice del successo con le sue interpretazioni, questa star di fama internazionale si trova ora a dover affrontare la prova più dolorosa della sua vita, nonostante abbia combattuto eroicamente per mettere in salvo la sua famiglia, non è riuscita a salvare il figlio di appena sei anni. Un improvviso incendio ha devastato la sua casa in mattinata. Mentre il fuoco avvolgeva rapidamente le pareti della sua dimora, ha lottato disperatamente per salvare i suoi cari, tra cui i suoi due figli e il suo ex marito. Nonostante l'incredibile prontezza nel chiamare i soccorsi e nel cercare di mettere in salvo i suoi figli, il piccolo di soli sei anni è rimasto intrappolato tra le fiamme, perdendo la vita in quell'inferno. L'ex marito, e padre del bambino, ha riportato gravi ustioni nel tentativo di salvare il figlio e ora si trova in stato di coma. Le autorità stanno conducendo un'indagine per scoprire le cause dell'incendio. Parliamo dell'attrice venezuelana Mariana Derderian, nota per il suo ruolo da protagonista nella telenovela «Floribella», e tutti noi facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia, ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.